benvenuti finalmente guardiamo gli ultimi personaggi cioè quelli del marvel civil war e ovviamente per essere in tema con civil war ce ne andiamo a sokovia basta però trovare sokovia perché io non trovo sokovia asgard ovviamente sono queste cose esatto andiamo a sokovia si confermo sono ant man però non per molten perché hanno aspettate ma poi ci sono anche tutti questi personaggi che non abbiamo mai visto che sono tipo l'unione di 2 dlc quindi ci saranno altri video ok no aspettate la 113 di civil war ok allora voglio un posto tranquillo dove non ci siano persone che mi parli no appunto appunto puoi andare però dove c'è anche il sole dove ci sono anche dei nemici o c'è azrael ah no non è azrael è kylo ren io non vedo l'ora di iniziare le esplorazioni quelle di lego marvel mi mi intrigano molto devo ammetterlo più di qualsiasi altro gioco lego delle esplorazioni che devo fare ancora insomma qua l'unico posto tranquillo è ovviamente un posto irraggiungibile di conseguenza direi che qua siamo all'ombra però almeno non c'è nessuno a parte che c'è tipo un fumetto della marvel aspettate che cerco di non riesco vedete in basso a destra adesso in basso c'è un disegno con la marvel comunque scherzavo qua c'è stai lì c'è qualcuno ovunque vero vero ah che scema poi dovrò fare un video con tutti i veicoli del dlc perché li sto ignorando banalmente quindi poi lo farò ce n'è ancora di video ok comunque questa è l'agente 13 l'agente 13 ovviamente una che lancia le mine perché si diverte a far esplodere i suoi migliori amici compreso occhi di falco perché tu sei occhi di falco vero no sei falcon quindi sei occhi di falcon no qualche miseria solo falco occhio di falco ma c'è un carpentiere ma cosa c'è questa per cosa perché mi parli hai già finito ecco cosa si vuol dire molto rumore per nulla perché mi perché mi hai parlato io ho paura non ho fatto niente non ha attivato nessuna quest ok l'agente 13 comunque direi che abbiamo finito perché faldo più salto in alto guardate giusto perché sono solo personaggi direi di poter guardare anche le animazioni tanto che aspettiamo l'animazione la guardiamo a tutto tondo attenzione animazione cosa fai balli no attendiamo la seconda animazione ma su compiacendo 113 che palla e quello dietro chi è occhio di falcon che si diverte ok la 113 è inutile poi c'è pantera nera civil war che è uguale alla pantera nera del tlc però con la skin di civil war presuno questo mi conferma che dovrebbe essere uguale salto attacco con sgozzo le persone cioè ok poi qua leggo la hobbit dobbio salto in alto ok si si è lei quindi visto che è palesemente uguale non può fare niente con b una volta solo guardiamoci bene la skin perché è per questo che siete qui non è vero io ho comprato un dlc semplicemente per avere pantera nera skin ah mi viene addosso ok comunque vi giuro che mi sta inquietando non poco c'è questa qui questa signora va in giro se ne va per sempre voglio vedere dove scompare perché poi riappare qua e mi parla cioè rigorosamente dove va dove va la signora fa il giro dell'isolato intanto che fa il giro dell'isolato capitano america civil war o che è quello che mi piace di più di tutti ovviamente perché hai vestiti strani e soprattutto i capelli in vista e soprattutto questi capelli in vista sono nuovi per capitano america ecco una cosa che non sopporto è il fatto che uno no cioè pagando il dlc dice meno sbloccati i personaggi extra di conseguenza posso modificare i personaggi personalizzabili con anche i pezzi di dlc ovviamente no cioè vi pare vi pare che uno compri per avere anche dei pezzi per poter personalizzare di più i propri personaggi no no sia mai comunque la signora è qui sta per arrivare intanto io lancio un po' di cose yes però volevo riuscire a fare un salto mentre arrivava ah no volevo fare il salto attacco mentre arrivava parlami io vi giuro che mi sto inquietando io adesso comunque voglio provarci l'ultima volta no yes quanto adoro sta cosa comunque l'abbiamo visto uh crossbones ecco lui è interessante ok ok spara tengo premuto B niente salto attacco basta sta soltanto sparare speravo in un ira funesta schiacciando una volta B però no niente vabbè guardiamolo un attimo bene scusate siete venuti qua e poi non ve lo faccio vedere bene adesso aspettate che gli tolgo l'arma così riusciamo a vedere anche il retro fantastico è graffiato aspettate il retro della testa è una maschera si ma vabbè c'è a livello estetico io non c'ho nulla da dire falcon ma è lui ah perché c'era falcon normale nel gioco eccolo qua aspettate che scemo questo è falcon eh ma scusate cioè questo qua è il falcon del si uffa coso del 2 di capitano america 2 invece questo è il falcon di capitano america 3 ok che ha le ali rosse oltre a un jetpack è già ma quindi aspettate intanto metto la gente carta era caso lui non aveva in civil war una specie di robottino magari compare in una super mossa vabbè peccato noi abbiamo l'iron man di civil war che è così ecco e ovviamente essendo una cosa extra non possiamo cioè non esiste la trasformazione data in stark a questo iron man qui giusto comunque questo iron man può sparare un laser sparare i razzi mirare i razzi salto attacco e poi volare quello che nessun altro iron man sa fare già comunque la signora che mi parlava è scomparsa ha capito che il suo posto è all'inferno comunque poi abbiamo a scarlet witch scarlet witch oh aspettate scarlet witch esatto col vestitone lungo guarda l'unica cosa che manca cioè ok mi piace che abbia la gonnellina così anche se da dietro è orribile però da di lato è bellissimo cioè da qui ecco vedendola qui così con questa angolazione è davvero bellissimo soltanto che avrei anche colorato una parte dei pantaloni davanti rossa per dare ancora di più l'effetto giacca che mi cade sulle gambe ha un mal di testa un mal di testa incredibile boh il tact ah è proprio l'urlo di age of ult non l'avevo mai notato o l'avevo notato e non me ne ero ricordato scusate dov'è la scarlet witch vera perché questa è finta no nel senso quella del gioco dove sei scarlet nell'ombra eccola qua sotto ok ok si è la stessa ma un maldito ho solo voglio animazioni new ma l'outfit è davvero buono penso and she can fly ok tranquilli stonatissimo apposta cioè non che sia intonato però non sono così stonato tranquillo wow il super simbolo nella testa della signora ok poi abbiamo war machine della civil war che è tipo una telecamera invece invece di di un razzo sulla spalla cos'è sto bastone cosa gli serve a quel bastone tanto non lo usa mica per clicchiare voglio vedere come picchia vabbè picchia come tutti gli iron man ok fantastico cioè era un po' ironico questo fantastico però vabbè comunque si è molto nero io non me lo ricordavo mica così nero lo war machine dello civil war va va e poi per finire il soldato di inverno civil war che adesso voglio capire un attimo qual è la sua la differenza tra soldato di inverno civil war e soldato di inverno non civil war secondo me è soltanto la barba vabbè come per capitano america che sarebbero soltanto i capelli ok però è stato inverno cioè insomma uno spende dei soldi in più ben due euro per avere la barba e dov'è il coso dai dov'è perché non vedo mai nessuno ah è che non l'ho sbloccato c'ho soltanto Bucky Bart eh no scusate però la storia ah no non l'ho sbloccato non l'ho proprio sbloccato ok va bene mi ricordavo molto male cosa fai? si pulisce il braccio? no no aspettate voglio vedere è vero che dovevamo vedere le animazioni sono un cretino mostrami cos'era quella spugna si pulisce il braccio ok va bene poi per finire anche se l'abbiamo già visto in tema Civil War c'è Spider-Man Spider-Man perché Spider-Man è Spider-Man c'è questo è un tetto io ci vado sopra perché perché sono Spider-Man ok comunque per ultimare facciamo davvero un ultimo giro velocissimo dei personaggi di Civil War perché mi ero dimenticato le animazioni quindi vediamo le animazioni di War Machine anche se credo che non ne abbia forza forza lo so che sei stupido no no è esattamente la stessa animazione e ve lo sto per dimostrare di Tony Stark no è tornata la signora non mi dire niente per favore mi sto a rapi sono inquietato sono molto inquietato ah mi passa che davanti così ma c'è che jumpscare comunque a parte l'animazione che ha fatto prima eccola qua la stessa che abbiamo visto 30 secondi fa ok poi abbiamo appunto Scarlet Witch che ah vabbè la sua animazione l'abbiamo già vista prima ma cosa c'è nella pille cioè quando diventa rossa diventa quello che è nero qui negli occhi diventa rosso e quello che è bianco diventa tipo argento esatto wow tipo da non dormirci la notte scherzi a parte la sua animazione era tipo facci i giochini con la magia rossa a parte ecco esattamente facci i giochini con la magia rossa falcon falcone sì carmine falcone scherzi a parte cosa fai dai l'uccellino robottino che vola suo amico lo tirerà fuori nell'animazione no 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 he's back cioè she is back the lady the walk her lady che mi parla ogni volta c'ho un problema come si suol dire molto rumore per nulla ma ho una tentazione di ucciderti e lo farò ok comunque la sua animazione era tipo c'ho male al braccio non l'ho capita vabbè crossbones urla l'abbiamo visto prima capitano america credo tirasse fuori le figurine in effetti non l'avevo mai vista la sua animazione però cioè non volontariamente dico guardalo come felice molto felice troppo felice no cosa c'era in quella immagine in quella cosa lì c'era tipo sua madre no sua madre no aspettate mi metto nelle condizioni per le quali riesco a vedere quello che c'è scritto lì però ce la voglio fare I can do this dai 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 Steve Rogers guarda che lì c'è l'agente Carter dai sei felice che c'è l'agente Carter fammi un regalo ok ok e vede tipo l'agente Carter ok mamma mia che dolore in ogni caso lui faceva delle cose tipo esattamente e lei l'abbiamo anche vista poi tanto per mettiamo no non lei mettiamo questa vedova nera perché anche lei c'era in Civil War quindi ci vuole anche un breve omaggio a vedova nera anche se non è nella versione Civil War la stessa l'agente Carter poi eh dov'è dov'è tizio dov'è dov'è l'abbiamo chiamato tante di quelle volte eccolo qua l'occhio di Falcon perfetto e poi chi mancava Pepper Potts no chi mancava eh fiori i fiori forever eh poi aspettate Civil War questo è un mega quiz eh chi c'era in Civil War non c'era non c'era un tizio sì c'era il generale Ross che è lui non è vero però è quello che ci somiglia di più ma non c'è qua Ross Civil War c'era Quicksilver no 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 non è vero wow bene con questo signori è tutto abbiamo visto pure i personaggi di Civil War non è vero non devo aiutarti devo morire ci vediamo quindi a un prossimo video prossimo video pazzesco dove vedremo questi personaggi come meteorite che ovviamente si suicida mannaggia non c'è